Scalfari, Matteo Renzi è di destra o di sinistra oggi come oggi? Matteo Renzi andrebbe a qualunque colore pur di essere il numero uno. Infatti non è caso lui fa l'occhiolino a Salvini. In che modo fa l'occhiolino a Salvini? Lefe gli dice che tutto sommato lui per bilanciarsi sta molto a sinistra e all'estrema destra. E' disposto a tutto. L'importante è diventare re. O presidente del Consiglio.